A Roseto Valfortore la postazione del 118 vive in condizioni indecenti a denunciare le criticità della postazione che fin dalla sua attivazione ha sempre vissuto con gravi inadeguatezze e il sindacato Unione Sindacale di Base che mostra le condizioni in cui operatori e utenti sono costretti a vivere. Sin dalla sua nascita dunque la postazione 118 di Roseto Valfortore ha sempre avuto problemi di inadeguatezza strutturale alle funzioni della stessa con gravi ripercussioni sulla qualità della vita del personale all'interno della stessa postazione. La struttura infatti è una immensa camerata senza pareti divisorie se non ambienti separati da lenzuola verdi e senza i minimi standard di sicurezza con impianti elettrici e di riscaldamento senza contare dei servizi igienici inadeguati, della privacy inesistente e di una cattiva conservazione delle bombole di ossigeno depositati a fianco ai lettini. Ambienti non confortevoli neanche per gli operatori al cambio turno in idonee all'accoglimento del personale. Da mesi inoltre ci sarebbe una delibera dicono dall'USB per adeguare la postazione con i lavori di adeguamento che però sembra bloccata nei cassetti degli uffici dell'area tecnica dell'ASL Foggia e secondo il sindacato sarebbe opportuno capire le motivazioni se sono legate ad una mancanza di fondi o ad un'incertezza di lavori da affidare. L'organizzazione sindacale inoltre evidenzia che l'ASL ha creato la società in house Sanita Service al cui interno ci sono i servizi anche di manutenzione di qualsiasi genere. Dunque dicono dall'USB non possiamo credere che anche per queste tipologie di servizi si scelga l'affidamento diretto a qualche impresa esterna con un grave danno economico alle casse dell'ASL e dei cittadini che renderebbe dunque inutile un servizio gestito da Sanita Service che comunque ha fatto risparmiare centinaia di migliaia di euro all'azienda sanitaria locale. La richiesta quindi è quella di intervenire immediatamente con i lavori di adeguamento che possano dare dignità e igiene alla postazione del 118 di Roseto Valfortore.